ciao a tutti saluto cagliari calcio a 5 e vi ringrazio tanto per il video che avete fatto un buongiorno a quella testa di cazzo che ha detto che se abbiamo problemi lui è a sassari cazzo beh d'appuntamento a sassari oh io sono a sassari e dove dove però perché tu a me mi hai rotto le balle non me lo scrivi piccola testa di cazzo è ancora la grande testa di cazzo fa un pompino cosa sono queste giovani marmotte che sono sul giornale di topolino ma cosa c'è di zè e a quello che ha tanti coglioni sempre lo stesso che poi conti li facciamo veramente io non so di chi sei convinto da chi sei protetto tu sei convinto che sei protetto poverino tanto c'è giovane sarei calcio a fare una revisione vai imbecille perché nessuno ti ha cagato capito mi hanno detto guarda ci sono vende a pezzi e io sono andato a vedere ma ho detto nel video io non ho visto niente quindi ti faccio le mie scuse e invece di vazi a pezzi era cua capito il vigliacco oh quando cd me il tubigliacco ho che paura che ho non devi avere paura perché sto tipo a me me ne frega un cazzo di te ma vai quei chi ci ha dire molto guai io aiuto due famiglie capito che sei sassari ci aiutite pore la tua sono sempre drogato e sono io traditionalo chiedi Duki che ha vinto un bel bacio da oscar chi era tossico a voce cazzo è un grande un grande io sono il tossico ciao a tutti sono quello che si faceva mentre adesso c'è gente che si fa in culo una con l'altra cosa volevo dire cosa volevo dire cosa volevo dire ah ci siamo frantisi ci siamo frantisi ci siamo frantisi ci siamo frantisi può succedere può succedere meglio va così con la sigaretta elettronica chi la dimmi per a dire tu che non faccio sigaretta non faccio di no dovrei ritirare stasera domani non lo so stasera sono a Predaniedda però il tipo non mi ha detto ne dove il luogo esatto richiamami frate dimmi dove dobbiamo andare non mi ha detto neanche il tuo nome adesso quella mi ha detto sono ero io al cielo si ma quando però scappito Davide la tua il tuo nuovo video io non so se l'hai fatto non l'hai fatto comunque sono così per i dosi con la gente paga per ascoltarmi infatti all'altro non sono venuti perché c'ero io secondo te all'altro sono andati perché dovevano andarci comunque Fabio sempre in gamba sempre in gamba ho puto agarito Bartorres Bartorres a Dardara no a Sassari capito i supporti della Torres a Dardara non a Sassari tutta capito tutta ciao Domi ciao Noé ciao Cristina che oggi è incazzatissima nel video andate a vederla comunque ha detto quel grandissimo uomo che se abbiamo problemi lui a Sassari Sassari è così piccolo lo troviamo subito secondo Ruggabus dici dove sei perché come dico venite dico nome indirizzo via e tutto non venite sono Sassari così vi sono buoni tutti e non venire a dirmi a me mi hai rotto le balle non me lo dire perché ti raggi i zigendi ti raggi i zigendi e voglio dire ai tuoi amici che non vi raggiungo tu gli amici e io in vita mia non ho mai chiamato nessuno a difendermi mai ma te se ti vedo ti mando solo in affanculo ti mando lui che dice no ai politici lui che dice no certo io che dico no cosa che ragazzo può dire tu invece lecca continua a leccare il culo come stai facendo mi hanno detto di essere più educato cercherò di esserlo anche se il mio modo di essere è quello non che mia madre mi abbia insegnato queste cose dire parolacce o altro ma il mio modo di parlare è quello giusto per dirlo con la testa di cazzo e a pitta che daceli devi vivere un anno poi devi mettere la bacia in culo non c'ho parole guarda non c'ho parole chi ti dà cazzo ha vittimato il posto col bambino il blocchetto tre anni in Africa ma non è da oggi che in Africa stanno sfruttando i bambini cioè le storie burro ma fatto non le hai visto ma non è da oggi non è da oggi cazzo e il tram ieri assurdo pagare il biglietto per che cosa? che il tram arriva quando vuole lui passa quando vuole lui gli orari non sono mai giusti mi un acquazzone con grandine così grossa c'è i biddatti meno male c'erano le cabine telefoniche lì mi sono potuto riparare dove sono le pensiline dei tram? le rompette un cazzo le rompette lo sai chi le rompe? i ragazzi che ubriachi che lasceranno e poi questi faccini che non c'erano manca ottenersi la loro città pulita ragazzi iniziamo noi tanto mi sto dimenticando sempre saluto a tutti quelli che mi hanno chiesto di mandare un saluto guarda le saluto qua la pagina sosteniamo Cristian Pinna non l'ho fatta io l'ha fatta un altro io sono d'accordissimo guarda se volete sostenermi quello là ha scritto vigliacco forse intendeva il titolo del video non so se stava dicendo a me poi se stava dicendo a me guarda non lo so fai come voi oggi abbiamo finito prima di lavorare sempre male al braccio se voi non ci volete credere se non ci volete credere se non ci volete credere non è che si veda tanto la differenza qua vedete qua questo è il nervo bastardo bastardo accavallato capito andiamo più vicino cioè dai si dovrebbe vedere anche perché l'altro bacio è totalmente diverso capito non so come cavolo mettervi e perché ve lo sto anche facendo vedere che non so che si che vi riguardano ma siccome c'è gente che ha detto che ha detto e allora questo questa montagnetta questo è il nervo questo è un altro nervo che non c'entra niente il muscoletto ma qui questo è il nervo accavallato ecco perché mi ha detto mandroni mi fa oragio sono andato a lavorare pure col braccio così cinque ore col braccio così capito testina di cazzo e allora io sto sempre aspettandomi capito e so se rimano a nostra e mano due dove te lo permettono prova a farlo nei posti di nuora vedi se te lo permettono oh non fuggi veloce no ma veloce però vai lì e prova a dire nuvolo è nostro i barbaricini sono sotto il nostro possesso prova a farlo ti arrivi nei quattro coltella da rugoto da ribini anzi però che non bosco non ti ha paura neanche più vabbè ma quell'amico che mi ha detto i barbaricini sono con te guarda sono troppo contento di loro cazzo perché quando ho fatto il militare ne ho conosciuto soli che bua francesco è quello che mi è rimasto più impresso di tutti perché avevano lo sguardo di di o l'online mi sembra poi c'era un altro di bozza che era il cuoco chiedeteglio nell'anno 96 a chi ha fatto il militare a Olmedo di nuoro mi ha conosciuto Cristian Pinna l'ho scazzato capito che non faceva che non seguiva ordini di nessuno infatti lo mettevano a pulire le piastrelle con lo spazzolino ma io sono sempre stato così le cose che non mi andavano bene le ho sempre dette ciao 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 a tutti ciao a tutti mi sto dimenticando qualcosa ciao a tutti comunque oggi sono a Predaneda stasera domani ad Ardra non è mia tu che vieni non mi va rubidone ciao ciao a tutti